buongiorno e benvenuti alla quarta lezione sulle fonti di energia ci siamo occupati fino adesso delle fonti di energia non rinnovabili quindi prevalentemente il petrolio e il carbon fossile e in piccola parte anche delle dei materiali radioattivi che differenza c'è sostanzialmente fra le fonti non rinnovabili e quelle rinnovabili le fonti rinnovabili sono quelle fonti di energia che avremo a disposizione per un lungo periodo perché o si possono rinnovare esempio pratico potrebbe essere semplicemente il legno noi piantiamo gli alberi e possiamo averne a disposizione per lungo tempo di continuo oppure anche fonti che in teoria a un certo punto finiranno per esempio l'energia solare noi fra 5 miliardi di anni non l'avremo più a disposizione ma siccome si tratta di un tempo lunghissimo possiamo dire che è una fonte di energia rinnovabile nonché la nostra principale fonte di energia le fonti di energia rinnovabili hanno come grandissimo vantaggio rispetto a quelle non rinnovabili il fatto che producono sull'ambiente nel quale viviamo un impatto basso cioè sono quelle fonti cosiddette green cioè le fonti energia verde quelle che non producono un forte inquinamento mentre le fonti energia non rinnovabili come il petrolio e il carbon fossile e anche i materiali radioattivi sappiamo tutti che possono avere grossissimi impatti sul nostro ambiente quindi la domanda a questo punto nasce spontanea cioè perché ancora oggi le fonti non rinnovabili come il petrolio e il carbon fossile e i materiali radioattivi hanno una così grande incidenza nella produzione mondiale di energia elettrica la risposta è contenuta in questa parte che ho aggiunto rispetto alla dispensa che distribuisco nel mio sito perché le fonti rinnovabili di energia sono dette anche fonti fluenti perché la loro forma di energia non può essere immagazzinata quindi se noi utilizzassimo esclusivamente l'energia del sole quindi l'energia luminosa perché la forma di energia dell'energia solare energia luminosa se lo utilizzassimo esclusivamente il sole per tutte le nostre attività quotidiane avremmo dei problemi perché noi possiamo catturare l'energia luminosa no diciamo che l'unico organismo che è in grado in qualche modo di catturare l'energia solare sono le piante perché dall'energia luminosa attraverso una trasformazione che tutti conosciamo come fotosintesi clorofiliana noi le piante possono ricavare energia chimica dall'energia luminosa ma l'energia luminosa non la possiamo catturare non possiamo neanche catturare l'energia del vento quindi l'energia cinetica quella del movimento non possiamo catturare l'energia cinetica delle acque sempre energia cinetica quindi il movimento non possiamo neanche catturare il calore e l'energia cinetica del vapore geotermico quindi la geotermia quindi il problema principale per cui oggi non usiamo le biomasse le ho lasciate un attimo stare perché sono una cosa particolare all'interno di queste di questa categoria diciamo sono un po' una categoria a sé e tra poco vi spiegherò il perché dicevo che le fonti di energia rinnovabile hanno un basso impatto sull'ambiente ma ci offrono questo grandissimo svantaggio quindi di non poter essere che non possiamo catturare la loro forma di energia mentre per esempio il petrolio che ha energia chimica come il carbon fossile noi possiamo trasportarlo immagazzinarlo lasciarlo in un certo posto per tantissimo tempo e poi a un certo momento utilizzarlo cosa che invece queste non ci permettono quindi se io vi chiedessi qual è il motivo principale per cui oggi non si utilizzano le fonti rinnovabili esclusivamente le fonti rinnovabili per ricavare energia elettrica la risposta più corretta è proprio per quello che trovate scritto qua cioè che le fonti rinnovabili sono fluenti quindi non sono non possiamo catturarne la forma di energia un'altra risposta che verrebbe spontaneo dare è che le fonti rinnovabili non sono sufficienti per soddisfare il fabbisogno energetico dell'uomo del genere umano insomma per tutte le nostre attività questa risposta sarebbe assolutamente sbagliata perché ricordatevi che ogni giorno arriva sulla terra una quantità di energia sotto forma di luce emessa dal sole che sarebbe sufficiente a soddisfare 10.000 volte il nostro fabbisogno energetico quindi stiamo parlando di una fonte di energia potenzialmente più che sufficiente per tutte le nostre attività ma vi ricordo che si tratta di una fonte fluente quindi è vero che si stanno cercando sistemi per immagazzinare l'energia prodotta attraverso lo sfruttamento dell'energia solare ma non è ancora così facile farlo per quanto riguarda il vento per darvi dei numeri ogni giorno sulla terra arriva il quadruplo arriva una quantità di energia cinetica legata al vento che sarebbe quattro volte più che sufficiente per soddisfare i nostri bisogni energetici basterebbe sfruttare un quarto del vento o un decimillesimo dell'energia luminosa del sole che ogni giorno arriva sulla terra per soddisfare tutti i nostri bisogni energetici quindi stiamo parlando di una quantità di energia enorme per quanto riguarda queste quattro fonti di energia cioè sole vento acqua e geotermia facciamo una carta d'identità sostanzialmente comune perché l'unica differenza che presentano è nella forma di energia che le caratterizza allora sono tutte fonti di energia abbiamo detto rinnovabili ovviamente quindi preferibili alle non rinnovabili sono tutte fonti perché non derivano dallo sfruttamento dalla trasformazione di un'altra fonte di energia sono tutte fonti che derivano dal sole direttamente mentre il carbon fossile derivava dal sole indirettamente come il petrolio e il gas mentre l'uranio non deriva neanche dal sole ma è una di quelle poche che derivano dalla terra in questo per questa precisazione vi ricordo che nelle acque noi quando parliamo di acque intendiamo fiumi acque ferme quindi laghi eccetera e maree ecco che le maree costituiscono una piccola eccezione nell'eccezione perché le maree non derivano dal sole direttamente ma derivano dalla terra vi ricordate ne abbiamo già parlato nella prima parte delle lezioni cioè dalla tra sono influenzate dalla trazione fra la terra e la luna per quanto riguarda la forma di energia del sole quindi l'energia solare energia luminosa per quanto riguarda il vento energia cinetica per quanto riguarda i fiumi energia cinetica per quanto riguarda i laghi se sono messi in montagna energia potenziale abbiamo detto invece che le maree le maree hanno energia cinetica anche se derivano dalla terra eccetera e la geotermia come forma di energia termica riguarda il vapore geotermico quindi termica e cinetica perché dicevo che le biomasse fanno una famiglia a sé perché le biomasse in realtà derivano sostanzialmente da degli scarti di origine vegetale o di origine animale quindi non li possiamo neanche considerare fonti di energia primaria perché derivano appunto dalla trasformazione di qualcos'altro per quanto riguarda l'energia solare l'ho riportato qui abbiamo detto quindi che il sole fornisce alla terra una quantità di energia che è 10.000 volte superiore rispetto al fabbisogno umano per quanto riguarda la natura della luce solare vi ricordo quando abbiamo fatto il primo ciclo di lezioni di quest'anno della terza media che abbiamo parlato delle forme di energia quindi ci ricordiamo che la luce del sole è una molto particolare perché è l'unico elemento che l'uomo conosce nel quale il quale si manifesta contemporaneamente con le sue due nature la natura corpuscolare quindi materica e la natura energetica quindi immateriale quindi abbiamo detto che la luce del sole la luce in generale perché non è solo quella del sole anche di una semplice lampada non è altro che un flusso di energia quindi materiale sul quale galleggiano delle palline che noi chiamiamo fotoni che sono invece materiali abbiamo anche detto che i fotoni sono delle particelle a loro volta particolari perché a seconda di quanto vibrano emettono una luce più o meno forte più vibrano velocemente più luce emettono più tendono a fermarsi più la luce si abbassa fino al punto che quando si fermano la loro massa va a zero cioè scompare è una cosa molto particolare abbiamo detto anche della luce del sole che è un'onda elettromagnetica quindi ha la capacità di scaldare di scaldare i corpi solidi che incontra per quanto riguarda il suo sfruttamento rimandiamo all'ultimo ciclo di lezioni cioè quello che riguarda le centrali elettriche i concetti che trovereste se cliccaste diciamo su questi due link passiamo velocemente a parlare del vento quindi l'energia eolica forma di energia attenzione non è eolica ma è energia energia cinetica allora in che senso il vento è legato anche egli al sole abbiamo detto che derivano tutte direttamente dal sole queste no a parte le biomasse nel senso che il sole ogni giorno manda sulla terra quindi la sua luce che è uno che è un'onda elettromagnetica che scalda delle masse d'aria le masse d'aria più calda diventano meno dense quindi più leggere tendono a salire verso l'alto le masse d'aria più fredda diventano più pesanti quindi tendono a scendere verso il basso questo scambio di posizione crea i cosiddetti moti convettivi ossia quello che noi comunemente definiamo vento anche in questo caso rimandiamo il resto della slide al prossimo ciclo di lezioni quello che riguarda le centrali elettriche per quanto riguarda le acque ecco in questo caso dobbiamo fare dei distinguo nel senso che ci sono tre diverse sottofamiglie quella delle acque fluviali quelle delle acque ferme diciamo quindi il lago il lago principalmente e i laghi di montagna in particolar modo anche artificiali quindi quelli con le dighe e l'acqua del mare che ha un movimento naturale come quella di anche dei fiumi e in più anche la possibilità di diciamo di essere sfruttata perché è prevedibile attraverso lo sfruttamento appunto delle maree cosa c'entra l'energia delle acque con l'energia del sole c'entra perché tutti abbiamo studiato anche alle scuole elementari quello che vedete schematizzato qua sotto e cioè il ciclo dell'acqua il ciclo dell'acqua dipende dall'azione del sole che scalda diciamo le concentrazioni idriche sul sul nostro pianeta evaporano queste andando a condensarsi nelle nuvole poi attraverso la precipitazione ritornano sulla terra e quindi anche l'energia idraulica in qualche modo è legata all'energia del sole per quanto riguarda la geotermia la geotermia abbiamo detto che non deriva dal sole direttamente ecco era come il discorso quello delle maree prima non l'ho non l'ho riportato l'energia geotermica è legata alla produzione di vapore geotermico in particolar modo vedete qua una manifestazione tipica del vapore geotermico che è quella che dà i cosiddetti geyser non è necessario che il vapore geotermico si manifesti con i geyser può essere assolutamente sotterraneo e non dare nessun tipo di manifestazione diciamo esogena la geotermia la geotermia lo dice la parola stessa si riferisce al calore della terra allora noi sappiamo che il vulcanesimo quello che noi conosciamo come vulcanesimo primario quindi eruzioni e produzione insomma di lava eccetera è un fenomeno visibile di un altro fenomeno invisibile che rimane appunto nelle zone profonde della 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 crosta terrestre che è il magma allora il magma la produzione del magma e tutte le attività legate al magma si chiamano vulcanesimo secondario sto banalizzando per farvi capire semplicemente come si genera il vapore geotermico il vulcanismo secondario cioè il magma sotterraneo è molto caldo e scalda le rocce del sottosuolo le quali se entrano in contatto con quindi da bollenti entrano in contatto con delle masse d'acqua vaporizzano queste masse d'acqua e quindi si crea il cosiddetto vapore geotermico il vapore che sia geotermico anche quello prodotto semplicemente da una pentola che bolle non è altro che una forma de una una uno stato della dell'acqua che è caratterizzato da un'alta temperatura e da una forte pressione quindi come abbiamo già visto nel ciclo di lezione delle forme di energia quando abbiamo parlato dell'energia termica se vi ricordate abbiamo parlato della della macchina vapore come funziona la macchina vapore appunto sfruttando la spinta che il vapore quindi l'energia cinetica che il vapore ha per far muovere qualcosa nel caso di una centrale vedrete che questo vapore spingerà le turbine che saranno collegate all'alternatore quindi noi avremo energia cinetica termica ma soprattutto cinetica che viene trasformata attraverso l'alternatore in energia elettrica l'ultima parte questa è una parte che riguarda le centrali quindi l'ultima l'ultima fonte di energia che voglio presentarvi è una fonte di energia un po' particolare si chiama biomasse è caratterizzata è diciamo caratterizzata da tre diverse tipologie di biomasse una tipologia che potrebbe essere definita pellet che deriva sostanzialmente dagli scarti della lavorazione del legno un'altra forma di energia che si chiama biogas e un'altra che si chiama biogas è quella che si riferisce soprattutto agli scarti di produzione animale e poi abbiamo i biocombustibili che derivano invece dagli scarti vegetali per quanto vegetali che non si riferiscono a un legno allora per quanto riguarda torniamo un attimo indietro eccoli qua allora per quanto riguarda appunto gli scarti del legno noi sappiamo che contengono un'alta concentrazione di energia chimica e quindi possiamo utilizzarli in varie forme questa è una il pellet che sarebbe semplicemente segatura pressata per capirci per essere utilizzate per la produzione di energia elettrica ma anche semplicemente per riscaldamento l'esempio tipico dello sfruttamento di questa biomassa è la produzione di energia elettrica che le stesse aziende che lavorano in legno per esempio in Trentino mettono a disposizione dei piccoli paesi nei quali sono inserite e quindi da uno scarto, quindi da un rifiuto sono in grado di produrre una risorsa energetica che è in grado di dare o energia termica, quindi calore o energia elettrica al paese che li ospita la produzione è molto semplice dallo scarto si ottiene con la segatura pressata dei pellet che sono come delle capsule di segatura pressata che vengono poi inserite in una caldaia, quindi al posto di gas, petrolio o qualunque altra cosa per essere utilizzata per scaldare dell'acqua e quindi produrre vapore il quale verrà poi spinto contro le turbine eccetera eccetera lo vedremo nell'ultima parte, nell'ultimo ciclo di lezione quello che si riferisce alle centrali elettriche oppure viene semplicemente utilizzato per scaldare l'acqua che poi viene distribuita per gli usi domestici un po' più particolari sono invece queste altre due famiglie quella dei biocombustibili e quella dei biogas allora i biogas derivano dagli scarti di origine animali quindi gli animali, soprattutto gli allevamenti in una certa consistenza hanno molti scarti stiamo parlando di deiezioni cioè quello che emettono come scarto gli animali si tratta di urine e feci sostanzialmente però dobbiamo pensare che questo argomento riguarda solo la produzione di biogas dagli animali erbivori quindi per esempio le mucche allora questi scarti vengono messi in appositi digestori chiamiamoli così i quali sono in grado di produrre appunto dei gas sfruttando la componente di carbonio contenuta nello scarto degli animali che è molto alta visto che si nutrono di erba principalmente o comunque di vegetali che hanno un certo contenuto di carbonio sappiamo tutti per esempio che la pasta è un carboidrato cioè un certo contenuto di carbonio la stessa cosa vale e quindi viene dal frumento quindi la stessa cosa vale per altri vegetali anche più semplici come per esempio l'erba un'altra famiglia che trovo molto interessante è quella dei biocombustibili questa è una famiglia che viene oggi utilizzata moltissimo soprattutto in alcuni paesi in particolare dove c'è per esempio una forte produzione agricola la quale può dare anche origine anche a una certa quantità anche notevole di scarti della produzione però quando parliamo di biocombustibili dobbiamo pensare che non ci riferiamo a tutti i vegetali possibili e quindi ai loro scarti semplicemente a quei vegetali che hanno un certo contenuto di zucchero cioè l'elemento fondamentale per la produzione di biocombustibili è che nel vegetale di partenza ci sia lo zucchero immaginatevi la frutta ma ovviamente anche il mais e tanti altri non solo la frutta però ovviamente se parliamo di zucchero ci riferiamo soprattutto a tutti quei vegetali che hanno un certo contenuto di zucchero ci viene subito in mente la frutta qui invece trovate per esempio il mais allora che cosa succede con lo zucchero appunto contenuto in queste frutte allora viene fatta macerare questa frutta quindi viene messa a bagno in ammollo eccetera eccetera e viene fatta sostanzialmente fermentare quindi si devono aggiungere dei lieviti e delle altre sostanze che trasformano lo zucchero in alcol sostanzialmente è la stessa identica cosa di quando vogliamo produrre un alcolico anche il vino stesso noi dobbiamo prendere un prodotto agricolo che contiene un certo quantitativo di zucchero per esempio l'uva la facciamo fermentare aggiungiamo dei lieviti quindi sostanze che digeriscono gli zuccheri contenuti nella frutta quindi nell'uva e la trasformano in alcol quindi maggiore sarà la concentrazione di zucchero nell'elemento di partenza maggiore sarà la quantità di alcol che ricaveremo ovviamente sia i biocombustibili che i biogas e anche i pellet contengono una forte quantità di energia chimica perché tutti possono essere bruciati e quindi utilizzati come fonte di energia così si conclude la lezione sulle fonti di energia rinnovabili e quindi si chiude tutto tutto il ciclo di lezioni che riguarda le fonti di energia il prossimo ciclo di lezioni riguarderà invece lo sfruttamento delle fonti di energia ai fini della produzione di energia elettrica e quindi riguarderà le centrali elettriche grazie 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 grazie